ciao amici chi si sente gonfio intossicato noi adesso ancora di più capisco vediamo allora come eliminare le tossine nocive dal nostro sistema questo è il modo migliore per sentirsi leggeri sgonfi e totalmente depurati per prima cosa dobbiamo impedire alle tossine nuove di entrare nel corpo e poi dobbiamo eliminare quelle che sono già all'interno e ci gonfiano ecco sette semplici suggerimenti per tenere lontane le tossine se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra 1 mangia biologico smetti di assumere pesticidi e consuma cibi biologici quando possibile ma il biologico costa però se il biologico è costoso almeno leggi le etichette scegli il cibo più sano quando mangi frutta e verdura rimuovi la chimica lavando bene con acqua e bicarbonato 2 aiuta il sistema immunitario se funziona correttamente saprà eliminare meglio tossine allergeni batteri fai esercizio fisico regolare mantieni lo stress al minimo mangia sano ed equilibrato 3 conserva bene il cibo quando serve usa contenitori di plastica ma senza bpa meglio ancora in vetro controlla anche la confezione del cibo che compri stai attento a latta e lattine di alluminio essi sono intossicanti 4 evita cibi industriali ancora non conosciamo gli effetti a lungo termine di molti additivi alimentari e di molte sostanze chimiche compresi dolcificanti artificiali come l'aspartame nel dubbio meglio evitare inizia a fare a casa i tuoi snack da portare con te se vuoi conoscere tante ricettine facili veloci e sane basta iscriversi al canale è facile con un click così e attiva la campanella per ricevere le mie notifiche 5 mangia meno carne anche se mangi carne per una settimana al mese fai il vegetariano al 100 per cento così tieni lontane le tossine aiuti l'ambiente e risparmi anche denaro mi sembrano già buoni motivi 6 assumi antiossidanti gli antiossidanti aiutano a eliminare lo stress ossidativo e l'accumulo di tossine per assumere in abbondanza non farti mai mancare questi alimenti verdure fresche colorate frutta vino rosso nella giusta quantità e cioccolato fondente 7 bevi acqua mantenere le cellule idratate è importantissimo per la depurazione sì ma l'acqua mi annoia aggiunge alla tua acqua alcuni ingredienti sani per fare degli infusi detox e bere ancora di più ho descritto alcune ricettine in questo mio video vivi consapevole e vivi meglio